Si rinizia la stagione, è una regata importante perché veniamo da diverse mesi di allenamento. Sono i marinai del momento Tullio Picciolini e Gianmarco Sardi. Ciao Fabio, secondo me sono stati bravissimi, non hanno fatto una buona rotta, sono stati sempre nel posto giusto. Un anno eccezionale, direi molto impegnativo per un circolo enorme, il nostro che non è un circolo enorme. Cosa si aspettano i velisti e le veliste del 4 e 20, i loro allenatori, in una o due parole? Divertirsi ma fare anche bene. Risultato. Passione. Emozioni. Buon spero di imparare molti cose. Migliorarsi. Kim Andersen, benvenuto in Italia. Ci saranno trials per esempio anche per la nuova Kill Boat Olimpica Offshore? Allora, credo. Con l'avvocato Giuseppe Lascala a bordo del Galatea io sono anche un po' emozionato perché questa barca, pensate, è del 1951. Il restauro strutturale è stato affidato al cantiere Aprea di Castellamare di Stabia. Torben, che bello vederti qui a Genova. Guarda che il formato presente della World Cup non mi piace. Le ragazze devono difendere a loro volta il podio, quindi stanno tenendo dietro l'olandese. Questa è la cosa più importante. Bellissima ragazzi, grande, è stata sofferta, è stata sofferta. Amici ci siamo, diretta, telecronaca in diretta differita della prova, forse ultima prova della Women's Selling Cup 2019. Due primi e un terzo, naturalmente, qualora le ragazze che adesso sono al comando facessero invece un primo, sarebbe due primi e un secondo. Siamo al Tognazzi Marine Village nei giorni del Kite Festival Città di Roma. È un evento che tramite il kite, che oggi è lo sport che forse ha maggior visibilità. Amici di Seily, eccoci qui, siamo a Riva di Traiano. E ha fatto una bella partenza e sta tenendo soprattutto un passo notevolissimo. Giornata splendida. Giornata splendida, il vento è salito come aspettavamo. Devo dire che è tutto quanto eccezionale, esaltante. Buonasera, lei è un genitore? Buonasera, sono un genitore. Io avevo la figlia che andava in barca, ha fatto Optimist e poi ha iniziato il FEVA, ma poi ha mollato il FEVA. L'Ubaldo Bruni, Checco Bruni, padre e figlio. Umberto Felci, sempre che ci segue in questo commento, che abbiamo qui quasi tutto il podio di Rio di genero 2016, le ultime Olimpiadi. È una cosa bellissima. A livello stellare proprio. Procezzo alla regata Rolex Capri Week. Stanno abbiamo la fortuna in Campania di ospitare questo. Beh, la Rolex Capri Week è sempre una regata che tutti vogliono fare. E' una regata complicate per le barche grandi fino adesso. Sono contenti, molto emozionati, ci siamo divertiti tantissimo, insomma, grande soddisfazione. Si muore la pioggia, cade veramente con fortissima intensità, il vento è in aumento. Il 26 maggio non si può regatare con queste condizioni. Qui Ischia sta regalando un tempo splendido. Partita in questo momento con scirocco di sette nodi. Una tradizione legata al vino che è antichissima, che però riesce a riscuotere grandissimi successi anche ai nostri genitori. Però Ischia poi non è un unico blocco, diciamo così, ma ci sono tante, a parte l'epomeo, poi ci sono colline e collinette in cui ci sta spesso, il vento si incanale. La Stare è una barca a chiglia, è lunga quasi sette metri, pesa 670 kg. La costruzione ovviamente dal legno è passata alla fibra di vetro, poi non si è andati avanti verso il carbonio. Ed eccolo amici di Sely, Alberto Bona, prima partecipazione alla Solitaire. A febbraio mi sono trasferito su in Francia e ho deciso di allenarmi con quei ragazzi di Timbandèche. Siamo sul Supernic a Dockout fra cinque minuti, mi è stato detto, quindi stanno proprio uscendo, ci dobbiamo sbrigare, se no ci fanno fare la regata con loro. È il decimo anno, è una regata che è cresciuta tantissimo, non soltanto nel numero ma anche nella qualità. Secondo me, rispetto a Formia, abbiamo fatto molti miglioramenti. Stare attenta a non toccarla perché c'è una fortissima corrente, vedete che dà una forte nasata. Abbiamo iniziato poco convinte, poi abbiamo detto, boh, facciamola lo stesso, che ci divertiamo. Amici di Sely, fine del primo tempo della Solitaire di Figa O 2019. Ho fatto un grande recupero e questo l'avevamo visto nelle prime regatte di stagione. Siamo soltanto al quarto giorno di navigazione, domani speriamo il quinto. Ultimamente abbiamo trovato di nuovo di giovani come guido che stanno entrando nella classe, che mi fa gran piacere. Qui abbiamo anche una pagina Instagram, come potete vedere. Ciao Fabio, sono entrato ora, ho vinto il titolo, oggi ho fatto dei primi in gold. Bella regata in diretta, giornata finale del campionato italiano Platù, qui a Senigallia. Quindi abbiamo un esordiente. Però ho mio papà che praticamente andava in questa parte. Mi abbasso, volevo fare così. 1,94 Federico Colanino. Prima di tutto, Fede, complimenti. Oscar Muconen, complimenti a lui. Sicuramente, gran bel campionato. Abbiamo avuto la straordinaria occasione di partecipare quest'anno a questa regata, insieme a Mitya Jaluz e il presidente della Barcolana. Dobbiamo raggiungere i Needles, quegli scogli che sono nella punta occidentale dell'isola, prima che arrivi la corrente contraria. Vigilia della quindicesima Palermo-Montecarlo. Buon vento a tutti, ciao. Grazie mille, grazie. Noi ci sentiamo alla nostra... Bravo. Ecco qua la partenza, questo first 40.7 che è un po' bruciato. Ecco Made in Midi, Chitot de Pavan, un altro mito della vela oceanica. Il futuro della vela passa per Reggio Calabria. Com'è andata la giornata? Così, così. Com'è andata? Mal. Hanno virato quasi tutti, dopo la partenza a un mura dritta, adesso sono quasi tutti i mura sinistra. Come sta andando questo campeonato? Siete contenti? Come sta andando? Come si comporta il teo? Cominciamo? Bene, bene, abbiamo avuto un po' di problemi in protesta, però per essere bene. Ciao, bentornati amici di Seili, un nostro live, vi commentiamo in diretta. Primo e secondo, hanno tagliato la linea del traguardo, adesso si avvicinano, vedete Raffaella e Francesco, sono ben contenti. No? Benissimo. Alessio, onore agli anziani. Amici di Seili, buongiorno, il primo giorno d'apertura del Village del Mini Transat 2019. Cambiata lei, vabbè sono cambiato anch'io. Credo che alla fine l'etichetta di favorito pesi, ma quella di sfavorito pesi ancora di più. Siamo nella pancia, siamo nella cabina di questo gran soleil 42 LC. Ho finalmente trovato Milius che mi ha dato retta. Siamo in compagnia di Franco Corazza del cantiere Italia Yotto. Allora, amici di Seili, è un piacere, un onore avere qua una bella fetta di squadra azzurra di vela olimpica. Ammiraglia di casa Bali, 5.4, come tutti gli altri catamarani della famiglia Bali. Speciale salone nautico, guardate chi abbiamo, un pezzo importante di luna rossa, ospite del nostro stand studio TV. Sicuramente ci sono dei vantaggi e degli svantaggi in ogni opzione. Una città così viva non l'avano mai vista. Chi ha detto Rufo nella sua intervista, non avrei fatto tutto sto casino per avere Morning Glory perché è con bonaccia. Ecco il fruscio dell'acqua, la Spalmas di Gran Canaria. Penso che guardando alle mie spalle, chi ci sta ascoltando possa rendersi conto di quello che è un po' il sogno di tutti i ministri, cioè di partecipare alla minitranza. Siamo in giro, stiamo raccontando. Andiamo ad imparare tutta una serie di situazioni che potranno assolutamente accadere durante il Van der Glocke. Siamo tutti Marco Gradoni e anche la notte della vela mondiale, in qualche modo, scegliere un velista di 15 anni, teenager, come velista mondiale dell'anno, quindi il rappresentante, il simbolo dello sport della vela per quest'anno. In Italia siamo il loft più grande, più modernamente attrezzato per la realizzazione di vere film. Il tessuto arriva così, in rotoli normalissimi, viene preso, poi è messo sul plotter. Una volta che il plotter taglia i fersi, vengono poi passati al tavolo. Il tappo è 56 mm di altezza, quindi anche i ponti in sandwich. Il tappo è stato molto interessante. Grazie. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS